Grazie Questa è una delle due strade che portano dalla Salaria Vecchia fino a... Guardate tutto quello che sta cadendo letteralmente verso la Salaria Vecchia, di sotto tanti piani di costruzione e anche persone, molte ne sono già partite, sono già state portate in salvo dai mezzi di soccorso che sono arrivati fin qui. La scuola ritorno è doppia parte, però ha bisogno risponde nell'istesterna iscritti attorno al messaggio di lo���ак Bisogn bonti Ma vorrei In primeira Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.